Ciao, ecco come preparare un'ottima zuppa di cavoli, rapa e prosciutto crudo. La verdura si fa così cremosa e invitante da conquistare anche gli allergici agli ortaggi. Gli ingredienti necessari sono 2 rape 2 fette di prosciutto crudo 1 cipolla Olio di colza 1 patata media 2 cucchiai di creme fraiche 6 decilitri di acqua Una presa di sale